ragazzi buonasera a tutti intanto dall'intervista pazzo allora quando c'è da fare gli sfotto io li faccio ma quando c'è da alzarsi in piedi e applaudire per questo Milan che ci ha messo cuore carattere determinazione tutto quanto complimenti a questo Milan complimenti a questa grande vittoria questa grande partita col sudore con l'anima dei giocatori in campo Pioli che l'ha preparata benissimo questa partita adesso mi risiedo intanto mi sono alzato per fare i complimenti mi sono emozionato sono veramente emozionato mi avete fatto battere il cuore perché è la Champions League è una competizione che dà la pelle d'oca per tutti quindi ragazzi guardate ce l'ho anch'io la pelle d'oca mi sono davvero emozionato mi avete fatto battere il cuore a differenza di milanisti che non riconoscono comunque le altre prestazioni delle altre squadre invece fare i complimenti rompono sempre il cazzo ma non solo parlando dei milanisti parlando di tutti i tifosi che ci sono in Italia anche io li faccio il disfotto ma quando c'è da fare i complimenti li faccio cioè sono un uomo da da poche parole quando c'è da fare i complimenti io li faccio prestazione fantastica del milan che non subisce un tiro in porta in 90 minuti una cosa che non è da tutti i giorni ragazzi non è da tutti i giorni non subire un tiro in porta contro il tottenham di antonio conte soprattutto dove lui il milan l'aveva già sfidato con l'inter dove il milan comunque è una squadra che aveva già affrontato che conosceva e che poteva comunque giocarsi le sue carte pioli è arrivato si è presentato stasera a san siro con la squadra con i tifosi l'ha preparata e se l'ha portata anche a casa ed è giusto fare i complimenti ragazzi stasera dovete fare i complimenti perché ragazzi il suono delle orecchie stasera dei rossoneri dovrebbero essere solo i complimenti da parte di tutti i tifosi italiani di tutti fate i complimenti ai milanisti fate i complimenti al milan perché se lo meritano stasera girù da playmaker girù da tutto campo difesa attacco spazia palloni un milan che si è difeso bene un milan che ha giocato che è stato più fisico che tecnico stasera le occasioni non sono state tantissime durante la partita dove il tottenham non è affatto non ha neanche creata una può essere forse non ho visto un tiro del tottenham da parte del tottenham se non fuori dai pali di tataro rosano non ho visto una parte di tataro rosano ho visto varie occasioni del milan dopo l'1 a 0 sulla fine verso il finale con ciao de ketelar di testa vittoria tutt'altro che merita c'è tutt'altro che non meritata da parte del milan quindi risultato parla chiaro l'1 a 0 è il risultato più giusto forse forse anche il 2 a 0 non sarebbe neanche così tanto guastato in questa partita meritata dal milan io vi invito ragazzi a lasciare un mi piace a commentare a condividere iscrivervi a tutti quanti al canale venite qua tutti i rossoneri che quando c'è da farvi i complimenti io ve li faccio iscrivetevi tutti al canale forse e lasciate un bel like bacio a tutti e sempre forse a it